In questo video spiegheremo come iniziare a muovere i primi passi all'interno di iProject e realizzare un nuovo progetto di bassa tensione. Cliccando sull'icona del desktop, la prima schermata che comparirà è la pagina iniziale, in cui potete scegliere se realizzare un nuovo progetto o aprire un progetto esistente, oppure esplorare i contenuti presenti in professionisti in rete e di documenti caricati all'interno del software. Cliccando sul tasto BT KNX HVAC possiamo iniziare a creare il nostro progetto di bassa tensione, connex o di regolazione HVAC. I primi dati da inserire sono i dati di progetto, che riguardano i dati generali dell'impianto ed i riferimenti del cliente, che verranno poi riportati anche nelle tavole di stampa. Le impostazioni dei dati elettrici e le impostazioni dell'alimentazione. In questo caso scegliamo l'alimentazione da trasformatore. Cliccando su OK si aprirà la schermata sulla quale iniziare a costruire lo schema unifilare. Sarà possibile modificare i dati di progetto, ad esclusione del tipo di alimentazione, in qualsiasi momento, cliccando su Progetto e successivamente su Modifica dati di progetto, dal menu in alto, oppure sull'icona dedicata raffigurata con il simbolo di un ingranaggio. Il software mostra in un'unica schermata tutte le funzioni disponibili. Nel menu in alto sono presenti le icone dedicate, alla creazione di un nuovo progetto o al salvataggio. All'esportazione in formato Excel, Word, DWG, oppure verso Xteam, per la realizzazione del frontequadro e la quotazione economica. L'icona di aiuto contestuale, che vi permetterà di approfondire funzioni specifiche con un semplice clic. E l'icona di creazione e modifica dei gruppi di quadri, che permette di esportare in un'unica tavola gli schemi dei quadri raggruppati. A sinistra è possibile impostare i dati di progetto, di quadro o di linea. Le impostazioni dei dati di progetto saranno valide per tutto il progetto di bassa tensione. I dati di quadro saranno validi solo per il quadro nel quale si sta lavorando, quindi nel nostro caso il Q0, quadro generale, mentre le impostazioni di linea valgono solo per la linea evidenziata in colore blu. In basso, invece, vengono riportati tutti gli elementi che è possibile inserire nello schema unifilare e configurare nella sezione linea. Iniziamo il nuovo progetto inserendo una linea in serie all'interruttore generale tramite l'apposita icona ed andiamo ad aggiungere un nuovo interruttore magnetotermico differenziale, che andrà ad alimentare un secondo quadro a valle del quadro generale. Sullo schema unifilare, le linee che non sono elettricamente valide vengono segnalate con un semaforo rosso, che scomparirà nel momento in cui collegheremo un carico o un quadro alla linea in oggetto. Per creare un sottoquadro è necessario cliccare con il tasto destro in corrispondenza del quadro generale all'interno della sezione dedicata allo schema blocchi e selezionare Crea nuovo quadro. Anche in questo caso, vicino ai due quadri, sono presenti le segnalazioni che scompariranno nel momento in cui i due quadri verranno collegati tra loro. Cliccando con il tasto destro in corrispondenza del nuovo quadro e selezionando Modifica dati di quadro è possibile impostare la siglatura ed i dati del quadro. Per collegare i due quadri è necessario tornare sul quadro generale, inserire un collegamento a quadro e successivamente selezionare il sottoquadro al quale collegare la linea tramite le relative icone presenti nel menu in basso. Le stesse funzioni sono selezionabili anche cliccando sulla linea in oggetto con il tasto destro ed aprendo il menu contenuto linea. Possiamo utilizzare la stessa procedura per inserire un carico in parallelo all'interno del quadro generale. Vediamo insieme come fare tramite il menu delle icone. I colori delle icone permettono di distinguere visivamente la loro funzione. Quelle dedicate all'illuminazione di emergenza in impianti con alimentazione centralizzata vengono indicate con il colore verde e con il colore blu quelle dedicate alle linee di riserva, ossia che non influiscono nei calcoli effettuati dal software, come ad esempio gateway, multimetri, limitatore di tensione o lampade spia. È possibile trasformare una linea in linea di riserva cliccando sull'icona dedicata. In questo modo l'interruttore che abbiamo inserito precedentemente è diventato un interruttore di riserva, quindi l'utenza adesso collegata viene eliminata in automatico. Muovendosi all'interno del riepilogo dati in basso è possibile visualizzare e modificare i vari dati di utenze e di cavi, visualizzare i coordinamenti, visualizzare il cartiglio e le segnalazioni, utilizzare le funzioni legate al quadro smart ed aggiungere gli schemi tipici. Quest'ultima sezione è molto utile in quanto permette di aggiungere a valle dello schema unifilare del quadro in oggetto lo schema di collegamento in DVG di alcuni dispositivi. Ad esempio se inseriamo all'interno dello schema unifilare lo strumento multifunzione PM5000 possiamo aggiungere al quadro lo schema di collegamento di quest'ultimo selezionando con un doppio clic il nome dello schema che si vuole aggiungere. Per eliminarlo basterà cliccare due volte nella sezione di destra. Se doveste avere dei dubbi sulle funzionalità del software in fase di progettazione ricordatevi che all'interno del software è disponibile la funzione di aiuto contestuale, attivabile tramite l'apposita icona e cliccando sull'opzione su cui si desidera ottenere maggiori informazioni, come mostrato nel video. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!